Facciamo partire il tempo. Allora, Guido Bertolaso, lei è un uomo di centrodestra? No, sono un uomo delle istituzioni. Una cosa che vuole dire a Conte? Si studi bene la legge di protezione civile. Vado a vedere come agiva il nostro padre fondatore, Zamberletti. Credo che potrebbe avere qualche idea interessante. Una cosa che vuole dire a Salvini? Credo che sia giusto che incominci a essere molto più europeista rispetto a quello che è stato fino ad oggi. Prenderebbe vantaggio lui e sicuramente la nostra nazione. Un incarico che le farebbe piacere avere? L'organizzatore dei campionati mondiali di golf. Wow! Senta, la cosa di cui va più orgoglioso? La mia famiglia. La cosa che rimpiange. Lo scudetto che ha perso la Roma l'ultimo giorno di campionato, mentre stavo all'Aquila a occuparmi del terremoto dell'Aquila. Tra cinque anni Bertolaso è? Un anziano, un giovane anziano, un nonno felice. Come si chiamano i suoi nipoti? Aurora. Ce n'è una che è Aurora? C'è Aurora di cui io sono semplicemente schiavo e che mi aspetta a Londra perché fa una settimana e compie sette anni. Wow, tanti auguri ad Aurora. Bertolaso, io la ringrazio per essere stato con noi, è stato bravissimo ed è stato persino dentro i tre minuti. Non è vero che non era bravo agli esami, il nostro l'ha superato benissimo. Grazie per essere qui.